Ciao ragazze, allora in questo videotag vi voglio chiedere di fare un trucco ispirato ai colori di una bandiera e di spiegarmi se volete il perché avete scelto quella bandiera di quel particolare paese, nazione, stato piuttosto che un'altra e scusatemi per la faccia un po' frastornata ma oggi è martedì e dopo domani alle 9 ho un esame e sono impicciatissima e ho trovato proprio questi due minuti per farvi questo videotag e quindi scusatemi, presto vi posterò appena, dopo giovedì diciamo, vi posterò il mio video di risposta a questo videotag perché non ho avuto il tempo, mi dispiace e ve lo posterò sotto a questo e comparirà insieme ai vostri e spero che partecipiate numerosi e vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima grazie ragazze, ciao